ciao ragazzuoli sono brod quel in questo episodio natalizio un po a ritardo ma non mi importa perché io non sono una persona natalizia da gozilla il re dei mostri neka ci presenta rodan il demone di fuoco e mamma mia quanto mi piace quanto mi piace ma andiamo per la figura come vedete ci arriva in confezione con questo bellissimo piedistallo andiamo per ordine composto da una base che rappresenta la base monarch che funge da tappo al cratere del vulcano su isla de mara in cui rodan sta dormendo l'esplosione del momento in cui rodan emerge e un piedistallo in plastica trasparente il tutto da essere assemblato esplosione base e piedistallo sono in tre pezzi distinti ok piccola lamentela su questa base è vuota è una cosa che non sopporto è che mi dà una enorme impressione di fragilità questa base non lo so più che fragilità di povero perché nel momento dell'assemblaggio questa base che questa questa parte scusatemi l'esplosione che è piena è un bel tocco di plastica quando lo andiamo a incastrare nella nella base sembra che la stia deformando e questo non mi piace molto lo stecco non posso dire niente non riesco a tenerlo dritto ma va bene è un buon piedistallo proviamo metterlo così vedete pende sempre da un lato che non mi piace per nulla ma va bene veniamo a rodan ed è fantastico assolutamente fantastico nelle ali c'è movimento su e giù un minimo di rotazione e le ali si possono piegare o aprire di questo tanto insomma non è molto però le zampe si possono muovere hanno un giunto a sfera anche se un po limitato dalla dalla conformazione dell'anca il collo si può muovere e così anche la testa inoltre adesso non ve la faccio vedere visto che mi scoccia tirare fuori dalla confezione in tutta onestà ma rodan arriva impacchettato con la con l'altra testa quella con il becco chiuso questa è la testa alternativa ma visto che è infinitamente più epica questa testa io ho deciso di esporli in questo modo ci sono lamentele una sì purtroppo se gli scocciava molto fare un po più rigide le articolazioni delle ali purtroppo a esporlo spesso e volentieri succede vedete già che una delle ali si afflosci esatto cosa buona come vedete non ci sono incastri per il piedistallo questo perché è fatto in modo tale da potersi tranquillamente appoggiare e sostenere il nostro kaiju senza problema alcuno un'altra cosa ho sentito diverse recensioni lamentarsi del colore gente che dice che rodan dovrebbe essere rosso che non capiscono il motivo di questi puntini gialli sull'estremità inferiore delle ali e signori ma l'avete visto il film c'è rodan è un vulcano vivente non è rosso è del colore della roccia lavica anche nel film non potete dirmi che è rosso fire rodan che appare nei film dell'epoca e 6 in particolare in in gozilla contro meca gozilla era rosso gozilla scusatemi rodan di gozilla re dei mostri e color roccia lavica perché la sua pelle e roccia lavica e non è che c'è molto dire i puntini gialli sono le braci che si lascia dietro mentre vola andiamo ragazzi la sua scena introduttiva è proprio lui che vola sulla città spazzandola via lasciandosi dietro un vento vulcanico con tanto di braci come fate a non capire cosa sono questi puntini gialli non è che potevano fare chissà cosa non lo so un vento di plastica trasparente diciamo con le braci senza andare a pregiudicare la stabilità della statuetta questa è fatta per stare in equilibrio su questo piedistallo ci sta e fa una bellissima bellissima scena questo ve lo posso garantire il modello è alto circa 20 centimetri contando chiaramente tutta la base e l'apertura alare di rodan sfiora i 33 centimetri dando una fantastica presenza scenica al tutto posso consigliarvi nell'acquisto decisamente si è un bellissimo modello come ho detto ai suoi difetti però si possono ovviare io non non so sto ancora provando a vari metodi trovati online per diciamo stringere le giunture dei vari giocattoli quando sarò più più sicuro metterò in pratica anche su rodan se qualcuno fosse esperto anche di resine via dicendo io consiglio di fare una colata di resina nell'incavo sotto la base per dargli più corpo per dargli più stabilità diciamo perché comunque una base pesante di per sé una base più più solida rende il tutto molto più sicuro detto questo non so più che altro a dirvi se vi aspettate degli auguri ciccia baciccia purtroppo come vi ho detto non sono un tipo natalizio non posso far altro che consigliarvi non solo l'acquisto di rodan ma se ancora non l'aveste fatto di guardarvi godzilla il re dei mostri perché è veramente fenomenale detto questo ragazzuoli vi saluto